Perché i miei video ti possono piacere? Non a tutti piacciono, lo so, ma magari a te piacciono. Magari ti sei chiesto come mai, quando mi vedi, o quando mi ascolti, o quando leggi i miei articoli, provi un senso di pace, di serenità. In pochi minuti andiamo subito al punto. Uso magie, trucchi, effetto placebo, cioè ti suggestiono, ti faccio credere qualcosa? No, non funziona così, non ci sono effetti speciali. Ti dico però perché effettivamente per alcune persone il mio stile può essere calmante e può ispirare. La spiegazione è semplice, perché tu sei calmo e ispirato come essenza. Momentaneamente sei ricoperto da uno strato di confusione, di informazioni sbagliate, d'accordo? Ma la tua essenza è calma, ispirata, intelligente. Tutto qua. E allora? E allora io arrivo e ti parlo in modo calmo, intelligente, logico, metto insieme i pezzi. Uno, due, tre. E tu hai la capacità a priori, prima di incontrarmi, di riconoscere la sequenza uno, due, tre. A, B, C. Quando incontri qualcuno, in questo caso me, che ti ripropone il tuo naturale modo di ragionare, allora ti riappropri della tua capacità di usare il tuo naturale modo di esistere. Ti faccio l'esempio della stanza. Metti di vivere in una stanza disordinata e in quella stanza non riesci più a muoverti perché tutto è in disordine. Arriva qualcuno che mette ordine nella stanza e tu ti puoi muovere nella stanza e torni a vivere quella stanza e a usare quella stanza. Domanda chi ha messo ordine nella stanza? Ti ha suggestionato? Ha usato magie? Effetto placebo? No. Semplicemente chi ha messo ordine ha tolto il disordine. Ha tolto quelle informazioni sbagliate che avevano messo certi oggetti nel posto dove non devono stare. Era un'informazione sbagliata il disordine. Quindi è arrivato qualcuno, ha tolto le informazioni sbagliate e ha messo la cosa 1 nel posto 1, la cosa 2 nel posto 2, la cosa 3 nel posto 3 e tu sei tornato nella condizione di poter usare con le tue capacità la stanza. Perché quella è la tua stanza. Io sono come uno che arriva e mette ordine nelle tue idee. Una specie di impresa delle pulizie. Tutto qua. Quindi non stupirti, se io ti dico qualcosa che ti ispira, non sono io che ti ispiro. Sei tu ispirato. Io semplicemente ti ho rimosso quelle due, tre informazioni sbagliate che ti facevano distorcere la percezione. Non c'è niente di soprannaturale in quanto faccio io. Semplicemente ti porto a riconoscere il tuo potenziale. Questo è il mio compito. Detto molto semplicemente, molto chiaramente, non è falsa umiltà. No. Sapendo questo tu vedi i miei video e ti rendi conto che io scelgo di parlarti in modo semplice, perché così troviamo subito degli elementi di base che riconosci, nonostante il caos, e da quegli elementi di base andiamo a costruire una struttura che ti permette di decodificare la tua condizione. Allora capisci dove vanno i pezzi della tua vita. Capisci quali sono fuori posto e soprattutto capisci come puoi assemblare diversamente le tue capacità, i tuoi desideri e combinarli in uno stile di vita che ti permette di sentirti soddisfatto, utile all'interno del flusso della vita, con la sensazione e le prove di generare qualcosa di valido. Perfetto. Perfetto. Succede questo quando io ti dico qualcosa che funziona. Così come ogni volta che tu sei in presenza di una sorgente di ispirazione, che può essere un'opera d'arte, può essere una riflessione che fai osservando una scena del tuo vissuto, oppure leggendo un libro, o riflettendo. Sei tu che dai il senso alla tua vita. Ci sono elementi che portano confusione e ci sono elementi che tolgono confusione. Quanta più confusione togli dalla tua vita, tanto più permetti alla tua essenza di affiorare. E quando affiora, la tua essenza si stabilizza, diventi consapevole e cominci a vivere con un livello di efficacia maggiore e con una maggiore soddisfazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.